Dunque avete visto il servizio che abbiamo preso dal nostro collaboratore a livello nazionale, l'Italpress? Ecco, fa molto male all'economia e si parla anche di questi negozi di prossimità. I negozi di prossimità sono quelle che una volta erano le botteghe, se vi ricordate, le botteghe erano molto importanti perché erano prossime, erano vicine. Poi ci siamo ubriacati con tutti questi centri commerciali e siamo arrivati al punto di desiderare di poter tornare indietro un po' con questi negozi di prossimità. Io sono convinto, vedendo un po' in giro, che ci sono diverse realtà che sono piccole ma che riescono a soddisfare una buona clientela, si sono fatti una buona clientela e devo dire che sono molto utili. Non è che tu ogni volta, se sei in via di sorgimento o qua, devi dire, per forza, al centro commerciale, ci sono tante cose che si possono comprare nelle vicinanze. Quindi ritornare a questo, ridare anche qualità ai prodotti locali che non possono essere contraffatti e soprattutto fare più negozi, per esempio, nei centri storici per rivitalizzare i centri storici. Una delle ricette. Ma abbiamo sempre bisogno dell'acqua. Ora parleremo di acqua più tardi con un'intervista che è stata realizzata da Gianni Papa con il dottore Duchi, ma quello è a grande livello. Noi invece parliamo dell'Ibleacque. Un attimo. Abbiamo chiesto all'ingegnere, poi domani, che voi sapete è l'amministratore unico dell'Ibleacque, gli abbiamo detto, ci sono delle lamentele. Dice, caro ingegnere, dico, arrivano lamentele per le bollette, che sono tutte sbagliate, e poi ci sono troppe ore di attesa per parlare con l'Ibleacque. Cosa si può fare? E lui mi ha detto, caro direttore, nei grandi numeri può accadere. Quindi, siccome abbiamo tanti clienti, soprattutto se i dati di partenza forniti dai comuni non sono aggiornati. Quindi, se noi non abbiamo i dati aggiornati, poi capita che non sappiamo che quello ha pagato l'anno scorso, le bollette sono elaborate dalla stessa società che le faceva prima per il comune. La prossima bollettazione sarà più precisa e così via. In ogni caso, la società riconosce gli eventuali errori e li corregge. Quindi, questa è la realtà. È vero, ci sono problemi su questa bollettazione, ma l'ingegnere poi domani dice, stiamo, inseguiamo tutti gli errori, ricerchiamo di risolvere la società in Bleacque. Però, magari chiediamo a Franco poi domani di allargare l'orario per ricevere le persone in modo che non stanno lì 70 persone un giorno intero. Perché poi, quando gli arrivano bollette di 800 euro, nessuno li paga senza preoccuparti. 15 euro li paghi per fare questione, ma 800 euro no. Quindi, devi andare lì a dirgli, guarda che non è così. Quindi, questa è una promessa che cerchiamo di farci fare dall'ingegnere poi domani. Dall'acqua andiamo alle europee, mancano due settimane esatte, o meno, 10 giorni. 10 giorni per andare al voto. Quindi, noi abbiamo gli ultimi appuntamenti. Intanto, abbiamo un ospite studio, parliamo di Forza Italia, che è una di quelle emergenze, o meglio, di quelle forze che emergono. Non è un'emergenza, è un'emergenza politica che sembra avere ottimi riscontri. Allora, sentiamo questa intervista con Giancarlo Cugnata.